Musica Bella a tutti quanti ragazzi e bentrovati Allora ragazzi il campionato è iniziato Quindi mandate pure le vostre richieste ragazzi Abbiamo fatto, abbiamo giocato una partita Quindi siamo ancora all'inizio Ci sono tante belle squadre libere Squadre forti, squadre scarse eccetera Siamo in 6-7 persone ragazzi E quindi sono un sacco di squadre belle da scegliere Siamo alla prima giornata ragazzi Quindi mandate pure le richieste È strano però ragazzi perché io ho fatto continuo campionato Quindi le persone che c'erano nel campionato di prima Dovevano insomma Dovevano entrare automaticamente anche in questo qua Quindi mi sembra strano che questa cosa non successe Insomma ti viene l'invito accetti eccetera Mi sa che ho sbagliato qualche impostazione o qualcosa Anche perché tante persone ho visto che hanno dovuto rifare la richiesta Per partecipare al campionato Ragazzi un'altra cosa che volevo dirvi È che Allora ragazzi voi usate Le mie tattiche e formazioni insomma Contro voi stessi Anche perché tante persone che giocano qua Diciamo che Prendono consigli Insomma ecco Dai miei video Dalle mie formazioni Tattiche eccetera E quindi ragazzi voi vi troverete A usare delle formazioni Per esempio un 443 Contro un 442 Che sono mie più o meno Magari ci aggiungete anche voi un po' del vostro Basta che non fate un cambiamento radicale Insomma Ecco e quindi ragazzi Se fate questa cosa qua Che usate un 443 Contro un 442 Mio Un 451 eccetera Insomma Con le tattiche voglio dire Quelle che ho usato io nel video È un po' difficile ragazzi Perché Cioè Io queste tattiche le ho fatte contro Squadre Contro persone Che trovo così Insomma Nel gioco Mentre gioco insomma O anche contro di voi E quindi Usare una mia squadra E una mia formazione Scusate E delle mie tattiche Contro Le stesse mie Cioè Non posso assicurarvi la vittoria O insomma Il pareggio Eccetera Ecco Quindi cercate di aggiungere del vostro Di cambiarle Ecco Va buon ragazzi Arriverà un nuovo video Riguardo i trasferimenti E niente ragazzi Farò un aggiornamento sul campionato Che abbiamo appena finito Io sono arrivato Quarto mi sa E in lista manager Sono arrivato secondo Va buon ragazzi Ci sentiamo Vi aspetto nel prossimo video Grazie a tutti